L'intensità del vento o velocità del vento si riferisce alla forza con cui il vento soffia in un determinato momento e luogo. L'intensità del vento viene misurata utilizzando vari strumenti come l'anemometro o la manica vento. Le misurazioni della velocità del vento sono solitamente espresse in nodi, chilometri all'ora e metri al secondo. Un altro metodo per descrivere l'intensità del vento è la scala di Burford, che classifica il vento da 0, calma, a 12, uragano, e si basa sulle osservazioni dell'ambiente circostante, come la superficie del mare e gli alberi.